Salve un cazzo, 12 vittime e 20 feriti, in quello che molti hanno definito come attentato ad un giornale satirico, ma satirico vero, non come quella merda di Colorado o la comicità da famiglia di Zelig, Charlie Hedbo, se non ho detto male la pronuncia, un settimanale francese che ha avuto la colpa di creare una cazzo di vignetta, forse due, forse cinque, forse venti, ma se volete leggere ciò che è accaduto andate sui siti francesi, sui loro giornali e cercate di tradurre, non sono qui per fare la mera cronaca di ciò che appunto è accaduto, come ho già detto un milione di volte, brutte teste di cazzo, la satira non colpisce voi, ma solamente i vostri pregiudizi di merda, ciò che avete visto è solo l'apice del fondamentalismo e non si parla solo di Islam, il fondamentalismo è lo stesso in tutte le religioni, solamente questa volta è stato portato all'eccesso, quando sentite qualcuno che fa una battuta sul Papa, Dio, Gesù Cristo, chi per lui e pensate che dovrebbe morire, siete loro complici, quando ascoltate qualcosa che vi infastidisce e che tocca qualche vostro tabù e vorreste tanto picchiare chi l'ha detta, siete loro complici, quando parlate di Dio, patria e famiglia, siete loro complici, quando sentite un bisogno intimo, quel bisogno da persone piccole, piccole, di volere che tutto il mondo abbia la vostra cazzo di morale, qualsiasi essa sia, spacciandola per universale, siete loro complici, voi che ora semplificherete tutto con un, beh, volevano la multirazialità in Francia, sono stati accontentati, siete solamente loro cazzo di complici, paradossalmente, quasi meglio chi crede per convenienza che per vera fede, almeno lo fanno per un guadagno personale e non perché sono delle persone talmente vuote da aver bisogno che qualcuno in maniera coatta gli dia un'etica ed una speranza di vita dopo la morte, e tutti voi che userete quello che è accaduto da schifosi, solamente per portare avanti le vostre lotte, ricordate che avete lo stesso loro valore morale, la stessa loro ottica, siete esattamente come loro, indossate solamente la maglietta di un altro colore, complici e basta.